Eh sì, adesso ci sarà un bel ritmo perché è il momento di Raffo De Angelis che fa il Circus Performers! Mi conosco poco! Raffo! Buonasera! Eh, hai scelto una cosa mica facile eh! È bella questa cosa, sembra un'arte semplice. Una volta ho detto voglio provare a salire sui trampoli perché è anche una bella sensazione essere a quell'altezza. In realtà non è facile per nulla, vero? Ma giusta pratica, come andare in bicicletta. Certo, come tutte le cose, però questa, insomma, voglio dire, in bicicletta uno casca, se caschi da lì eh! Ma bisogna per forza cascare? No, no, chiedo, uno per imparare deve cascare. No, non è detto. Ma lei posso imparare senza cascare mai? Se sei bravo sì. Allora io a casa vi dico non date retta al Raffo, perché il Raffo sta facendo lo splendido. Se uno vuole imparare a salire qua, se io ti metto Walter Mandrillo qua mi muori dopo due secondi. Ma che stai dicendo? Mandrillo vuoi salire? No! Non ci tengo! Allora che cosa fai? Fai un... Allora io sono un Circus Performer e... Bello! Mi sono presentato qua come trampoliere, però danzando sui trampoli. Addirittura danza sui trampoli. Danza sui trampoli. Forza, vediamolo, vediamolo. Grazie. 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 Raffo! Sai che ha detto? Volevo far provare uno degli autori, ma si sono rifiutati, perché è pericoloso in effetti. Chi non c'è mai indato non può salire subito così O almeno lo può fare sulla sabbia, no? Per iniziare, vero? Diciamo che è un pochettino più difficile sulla sabbia Perché dovessi più alzare le ginocchia Forse sui chiodi, mettiamo dei chiodi a terra Sì, quelli sarebbero comodi Allora, diamo un bel tre a questo ragazzo Che ha fatto una cosa molto molto carina, particolare Poco vista, vediamolo, forza Vedete il Raffo che mi porta a casa la vittoria Allora, Raffo, raggiungi i tuoi, vai